Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un altro local report. Oggi siamo venuti qua giù senza una meta e senza niente in cui sperare come tutte le volte. Il master e il mio socio si sono invertiti i mazzi, poi vi diranno come è andato a finire. Io erano le due di questa mattina e ancora non sapevo che mazzo portare, non avevo il mazzo pronto. Confermo. Esatto. Quindi sono arrivato alla grande conclusione di provare zombie con i danger. Per decidere se vale la pena comprare i danger. Fa presente, se ci sono dei tizi fuori dal finestrino della macchina che stanno urlando, se li sentite non è colpa mia, l'omicidio non è legale. Comincio io perché sono quello che ha fatto peggio. Ho portato questo zombie danger ovviamente senza tutti i danger, solo uno perdi, quelli da soldi, un po' di danger poveri, spruzzati lì insomma per fare 8 slot di mazzo. Prima partita del giorno contro Dino. Praticamente mi fa andare a me. Metto soltanto zombie ward, metto unizombi, metto balderoch. Poi gli casca dalla mano col bodygrave. Vedo che ce l'ha, non posso fare la giocata di vampira balderoch perché tanto so che muore. Quindi è inutile che provo di farla. Resto così, mio tk. Cioè mio tk malissimo è ciccia. E va bene. Secondo game gli side tipo 9 carte dentro, non ne vedo neanche una. Ti ho fatto lo spoiler sulla sconfitta, cazzo. Vabbè, wow. Ti ho fatto vedere il collet. Seconda partita non vedo neanche una carta di side, apro malissimo e perdo. Niente di incredibile. Come al solito, insomma la mia vita. Si sai da una nuova carta e non ne vedi mai neanche una. Secondo game contro un game maggiù, che non era quello del mio socio che giocava in master, questi casini qui, insomma era un altro game maggiù. E semplicemente abbiamo passato letteralmente due partite ad andare di top deck a fare ognuno le giocate più schifose che potete fare, proprio tristissime. Cioè una super poli era capace di capottare una partita, farti perdere o farti vincere, cioè era a masto livello. E tutti siamo sempre nati di top deck per due partite. E l'ho perso. Quindi addios, insomma. La prima l'ha vinta lui, la seconda l'ho vinta io, la terza l'ha vinta lui e finita lì. Partita successiva contro il subterro del master, non giocato dal master, la partita si può riassumere come si riassumono tutte le partite di subterro, quindi ce ne può essere solo uno punto deck. Contro zombie ovviamente, molto molto equilibrato. Un maastrix mi ha rovinato le poche volte che potevo fare qualcosa e è finita lì. Fortissimo, che è un banlist subito. A zero maastrix. E collet, ricordiamo la famosissima collet. Esatto, la famosissima collet. E ultimo game contro un strega artigiana. Abbiamo fatto due partite veramente carine. La prima ho sculato malissimo perché è andato lui prima, gli faccio super poli, gli pulisco la board e l'ho oticappato. 8200 di danno, giusto? La seconda partita mi è dispiaciuto un po' perché lui non ha aperto tanto bene, io ho aperto da Dio, gli ho tirato virus, gli ho levato le magie. Poi da lì in poi è stata vinta così. Ecco, è calato anche Baldaro, c'è un paio di turni dopo e ciao. Quindi un assolutamente deludente 1-3 e i danger se li tengono nel negozio. Ciao a tutti ragazzi, sono il master e oggi ho portato il green magiù del socio. Delusione clamorosa, il mazzo non vuoi cagare. Ma che cazzo dici, sei scatto. E niente. Non so fare. Adesso vi dico come sono andate le partite. La prima ho beccato subterro, vabbè era il mio mazzo quindi non mi aspettavo altro che perdere. E' stato straferso. Ah, vorrei sottolineare una cosa che ho pescato una Desire in 8 game. E l'ho vinto quel game. Vuoi vedere? E niente, ho perso lo 2-0 facile, super easy, best math, subterro, che schifo il green magico. Secondo game ho beccato un potentissimo Salaman Great. Niente, è partito lui, mi ha fatto Bagusk. Io ho provato a fare il serpente, me l'ha spaccato di roar, non avevo nient'altro, è passato. E mi ha detto che ho fatto. Secondo partita è abbastanza identica a quella, solo che non è saputo neanche il mio serpente, perché non l'ho pescato. Quindi, molto triste. Terzo game ho beccato anch'io il mitico strega artigiana, che saluto. E niente, è strega artigiana. Mi ha anche fatto un game una volta, quindi, per dire quando va a ridere il green magico, del mio socio. Poi quello con il castello di Stromberg è tutta un'altra storia. Se infatti si è visto il risultato. Non li giocavo. Eh, no. Ultimo game, più bello della giornata, rimarrà nei miei annali per sempre, perché ho giocato contro un Altergest. E ho tristissimo, perché già ha Altergest che due pere. Da parte lui, mi fa Melusik, la mando al cimitero, gli faccio Ash e passa con l'incuribido due settate. Gli faccio Twin, mi gira Order, e con quell'Order mi ha fatto vincere la partita. Perché continuavo a perdere l'iPhone, se continuavo a tirare Gsmack, e ho vinto così. Secondo game, stascia cosa. Parte lui, stavolta gli parte Spoofing con Faker. Io avevo già due Gsmack, e ho fatto diventare tipo il mio green magico un 11.200. Mi ha fatto tornare in mano un Gsmack, ho evocato il green magico, ho bittato e vinto. Il green magico non counter Altergest, infatti non dovevo vincere la partita, però Best Mass. Il green magico del socio è da migliorare, infatti ci vediamo in settimana. Per migliorarlo, perché male male. Eccolo. Ciao a tutti, oggi giocavo il subterro del Master. Del Master, niente da dire. La prima partita, ho già raccontato al Master, com'è andata. Secondo game, sono andato contro un Orkust. La prima partita, vabbè, forse ho sbagliato un Colled, ma comunque io ho potuto dire poco, non ho visto mostri. La seconda partita invece il Master mi ha un po' insultato, perché ho un po' misplayato. Cos'è che non ho fatto? Vogliamo dire cosa non ha fatto? Sì, dai, raccontiamo. Non ho evocato il ciccione lì, com'è che si chiama? Ma non l'ho evocato perché mi pensavo che potessero il turno dell'avversario. Ecco, ok, posto. C'era un altro game comunque, bisognava vedere. Era almeno un'europeana dopo la gara. Terzo game invece è stato contro Umba, vabbè. Ce ne può essere solo una. Vailer. Ultimo game invece l'ho fatto contro Altergeist. La prima partita non ho visto assolutamente niente. Ho visto due trappole dei subterro, Colled mi sembra, e Nash tipo. o una cosa simile. Quindi parto io. Ho concesso dentro il tuo tour, ne vi dico soltanto questo. Secondo game, riparto di nuovo io. Ho visto tutto, lui non ha visto assolutamente un mostro, quindi la partita è stata la fotocopia della prima. Terzo game è partito lui, però ho visto bene un po' tutto, insomma. Io ho fatto subito Colled su Multifaker, quindi sostanzialmente il Mazda era morto lì, e poi l'ha tirata un po' per le lunghe, è finita praticamente al tempo, e basta. 3-1 ho fatto. Siamo a voi. Certo, vuoi fare anche te. Come mi presento? Sono Rocky. Sarai Rocky per sempre. Ti mettiamo come un Geodude. Io sono Rocky, sono nuovo di qui, in questo gruppo. Io ho giocato il Back Rocket di Umba, e la prima partita contro... Andiamo a specificare, senza la palla. Senza la palla eratica lì, quindi delle combo non le ho potute fare, però è lo stesso. Tanto vincere o perdere è la stessa cosa. Esattamente, non è vero. Non è proprio così. E la prima l'ho fatta contro un Altergeist, che direi mi annullava la roba, quindi ho perso. La seconda l'ho fatta contro lo stesso Witchcraft con cui ho fatto Umba. E a lui l'ho aperto perché... La prima gli ho cacciato un board della Madonna con Hot Red Dragon e Borrow's Sword. La seconda l'ho persa perché mi hanno annullato scavi fossili e non ho potuto fare la combo e niente. E la terza l'ho vinta perché... Perché non mi ricordo. La terza l'ho fatta contro un bambino che aveva il dinosauro. Lui ha avuto un culo della Madonna, non ho potuto fare niente in due game e li ho persi entrambi perché dopo 10.000 turni cacciava il suo dinosauro da 3.500 e mi attaccava. L'ultima l'ho fatta contro un Grand Magu. La prima l'ho vinta, mi sono eccitato tanto e poi le altre due l'ho perse perché non ho avuto lo stesso culo che ho avuto nella prima. Che nella prima lui aveva l'Xis Orcus Extra e il serpente che si è avvocato al cimitero, non mi ricordo cos'altro. Io non avevo niente, pesco lo specchio del drago, li faccio Bottle Fusion, li avevo già tolto 7.000 passa life points e li distruggo un monstro, lo attacco e ho vinto. E gli altri due invece mi ha aperto poi. Dopo la prima mi ha scelerato, non si può vincere con un Mirror Dragon a uno e basta. A posto. Come al solito ragazzi sul momento ci dimentichiamo sempre di fare la conta dei deck che c'erano al local. Oggi non eravamo in tantissimi rispetto al solito. Comunque i mazzi del giorno erano due Altergeist, un dinosauro going second, kaiju e il solito pacchetto insomma, un Witchcraft o strega artigiana come lo volete chiamare, un Marincess, un Orcus, due Grêmma Giù, uno era anche con la roba di Stromberg insomma, un Sub Terror, uno Zombie Danger che ero io, yeah, un Rocket War Dragon e un Salaman Great. Fra parentesi il mio socio con il Sub Terror del Master è arrivato secondo. Quindi ragazzi, la morale di oggi è che le liste del YCS vanno bene nel YCS perché lo Zombie Danger avete visto che era al tavolo 500, il Grêmma Giù con lo Castello di Stromberg era al tavolo 500, quindi questo vi fa capire che al nostro local se portate la lista del YCS potete anche stare fuori. Quindi un saluto a tutti e ai prossimi del canale e giocateci da noi i zombie. Ciao. 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 Ciao.